Ed eccoci qui signori per una nuova notizia di gossip con la confessione da parte di Loredana Leciso, quindi di recente Albano Carrisi sappiamo che ha messo chiarezza sul rapporto con Romina Power, andando a smentire ma proprio in maniera definitiva tutto quel che si dice sul triangolo amoroso tirato in ballo da svariati gossip in generale sulla situazione. Sull'argomento è tornata a parlare anche Loredana Leciso, compagna di vita del cantante di Cellino San Marco e madre dei loro figli Jasmine e Albano Junior, detto Biedo. La confessione di Loredana Leciso su Romina Power. Le dichiarazioni dell'ex showgirl sopraggiungono nel corso di una lunga intervista resa al settimanale nuovo. Loredana Leciso, come Albano Carrisi, ha messo definitivamente in chiaro la situazione senza troppi giri di parole. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo. Se ho mai avuto paura di essere lasciata? No, non ho mai avuto questo tipo di paure, nemmeno quando Albano è stato male. Loredana Leciso ha poi proseguito sottolineando. Da quando sto con lui sono cresciuta e maturata con gli anni, ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti. Cosa auguro a Romina? Spero con tutto il cuore che arrivino tanti successi, come quelli che ha ottenuto fino a questo momento nella sua carriera. Nessun rancore dunque nei riguardi di Romina Power e anzi l'augurio che la sua carriera professionale possa sempre volgere al meglio. Solo pochi giorni fa Albano Carrisi su Romina Power ha rivelato pubblicamente. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n'era già andata, quasi dieci anni prima, e questo dopo aver chiarito, con Romina non c'è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece, parlando della loro relazione. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n'era già andata, quasi dieci anni prima. Parole di rinnovato amore e stima per la sua attuale compagna di vita, Loredana Lecciso che stando a quanto ammesso da Albano Carrisi, è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri.